Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 10 febbraio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Segno fortunato. In una botte di ferro, anzi di bronzo. Essere in una botte di ferro deriva da una terminologia di guerra, in quanto era praticamente impossibile bucarla e quindi si era al sicuro. Ma per voi Sagittario, griffati da Giove, che come metallo porta fortuna non ha il ferro delle armi ma il bronzo delle campane di pace, sarebbe quest'ultimo il materiale più adatto per forgiare la vostra botte, o ops, guscio protettivo. Qui infatti ci state benone, proprio come di oggi nella Herzia abitava felicemente nella propria, seppur più umile di legno. A ringalluzzirvi il sestile lunare in compagnia del Sole, Mercurio e Plutone, una vera squadra ben indirizzata a concludere ottime affari. La ricetta segreta, simpatia, diplomazia, parole suadenti, ma a ritmo sostenuto e ma in tono aggressivo. Anche la storia insegna, i messaggeri giunti in missione di pace ottengono molto di più. Una coppia molto unita, i partner si amano e pensano al futuro. Coppie che trovano equilibri nuovi e interessanti per far crescere il proprio amore. I single possono sperare di incontrare persone giuste che li amaranno e sapranno creare le condizioni per unioni molto forti. Meno tempo al computer e al cellulare gratificherà la vostra vita di emozioni nuove e servirà a non farvi chiudere su voi stessi. Pensate positivo oggi e coltivate rapporti veri. Dimostrazione di affetto da parte di amici o parenti. Cogliete a volo queste occasioni per trascorrere con loro momenti piacevoli. I nati di giovedì potrebbero avere delle occasioni di viaggiare, approfittatene senza indugiare troppo. Potreste fare piacevoli incontri nel corso del viaggio. Vi arrabbiate per poco. Cercate di controllare le vostre sfuriate prima che comportino altre conseguenze. Poche certezze, ma chiare, oggi attraverserete alcuni momenti di confusione dovute sia a una situazione difficile per il lavoro sia a una situazione sentimentale instabile, incerta e frammentata. Mettete al riparo le vostre poche certezze. Oggi sono possibili discussioni per motivi futili, soprattutto economici. Mostratevi sempre sereni e non date mai a vedere le difficoltà nelle quali potreste trovarvi. Giocate di anticipo. Emozioni intense. Fascino. Bene le nuove relazioni. Serata piacevole. Tutto ciò che è insolito. Ti incuriosirà. Fai qualcosa che normalmente non fai. Riposare ad esempio. Cambierai opinione spesso. Non aspettarti molto dagli altri oggi. Una questione un po' seccante tra familiari, forse di tipo patrimoniale, può riguardarvi, mettervi in mezzo, in qualche modo chiamarvi in causa. Sappiate, come sempre, tenere un comportamento equilibrato e, con il vostro senso di imparzialità, cercate di approdare a una conciliazione che sia accettata da tutte le parti. Un po' di alti e bassi nel tono e nell'umore ve li fa arrivare oggi un imbronciato Saturno nel segno vostro nemico, amatissimo dei pesci. Specie in famiglia si richiede tutta la vostra pacatezza unita anche alla vostra saggezza. Venerdì frenetico, ottimale per concedersi un ponte e andare a folleggiare tra maschere e coriandoli là dove la festa è più sentita. Ecco le ragioni del vostro largo sorriso, immortalato dalla coppia luna-mercurio in acquario in se stile. Prima di partire, però, incrociando le dita perché il motore non faccia i capricci, dovrete concludere tutte le incombenze in agenda, senza lasciar fuori nemmeno un dettaglio, ordini superiori emesse da Giove legalista, d'accordo con l'imprevedibile Urano, apposta per tamponare eventuali brutte sorprese che vi metterebbero in croce anche quando siete in vacanza. Amore ed Eros. Estroversione, originalità, passione colorano anche i vostri sentimenti di tinte fluorescenti. Nessun segreto, voi raccontate tutto, anche quello che non dovrebbe essere raccontato, non temete giudizio altrui e la vostra sincerità disarmante, colorata di ingenuità e tanta tenerezza mette addosso la voglia di abbracciarvi come si farebbe con un bimbo. La luna amica del vostro segno vi rende sensibili e delicati, quindi capaci di sapere dove fermarvi col vostro amore. Un po' di stanchezza e di noia può prendervi oggi. Vi conviene non proporre serate mondane troppo impegnative, inviti in società pressanti al partner. Lasciate piuttosto che sia lui o lei a darvi delle dritte sull'organizzazione dei prossimi giorni assieme. Lavoro e denaro. Se studiate, insegnate o avete un'attività a contatto con il pubblico sarà la parola oggi il vostro cavallo di battaglia. Ispirate fiducia e la gente vi si accosta spontaneamente perché avete l'aria per bene è sincera. Serata piacevole per una scorpacciata di chiacchiere e frittelle tra amici, prima delle eventuali partenze per il ballo in maschera in piazza San Marco o per sfruttare l'ultima neve, sperando che ancora ci sia, divertendosi su Ciaspole e sci. Con Mercurio vostro fedele alleato nel segno della quale una promettente svolta della vostra attività vi si para davanti. Svolgete una professione connessa con i viaggi, la cultura, la parola, l'insegnamento. Potrete contare su un'eloquenza che non ha rivali. Da veri incantatori di serpenti. E in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 2 al 13 del mese di dicembre. Benessere. Informissima, questa settimana di super lavoro non vi pesa sulle spalle, anzi vi dà carica accendendovi lo sguardo. Colori da indossare per mantenervi così smart fucsia e arancione, profumo di spezie specialissimi pepe e cannella. Denaro. Un ottimo affare vi sta attentando da un po' di tempo. È stato un amico caro a suggerirvelo. Prima di lanciarvi decisamente, però prendete tutte le informazioni che ancora vi mancano. Per lei, i vostri maestri di vita sono i libri, ne leggete in quantità e non romanzi di cassetta ma opere letterarie, dove ogni personaggio è un tipo psicologico che vi insegna a capire gli altri e tutte le sfaccettate dinamiche della vita. Per lui, amate la filosofia ma apprezzate anche il movimento, il confronto e la lotta, soluzione ideale per voi un corso base di arti marziali, grazie alle quali sviluppare sia la parte fisica che quella interiore. Colore delle emozioni, lampone. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 8, finanze, 9, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie.